Le guerre e le insensate violenze a causa del terrorismo fondamentalista fanno soffrire i cristiani in Siria, in Iraq e in Egitto. Papa Francesco lo ha ribadito, ricevendo in Vaticano i partecipanti alla plenaria dell'Aroaco, riunione delle opere di aiuto per le chiese orientali. Ricordando le terribili ondate di persecuzione di travagli, sia nell'est europeo come nel Medio Oriente, le forti emigrazioni che hanno indebolito la presenza dei cristiani in quelle zone, il pontevice ha anche parlato delle chiese tornate alla libertà dopo il doloroso periodo dei regimi totalitari. Chiese che hanno fatto l'esperienza della croce, causa di turbamente sofferenza, ma anche fonte di salvezza. Riferendosi alla formazione dei seminaristi e dei sacerdoti, il Papa ha ricordato l'eroicità di molti nel restare al fianco delle loro comunità, ma ha anche messo in luce il pericolo di cercare uno status sociale secondo criteri umani. È fondamentale, affermato, alimentare sempre lo stile di prossimità evangelica, sentirsi collaboratore della salvezza offerta dal Signore, essere pietre vive, strette a Cristo. L'invito del Papa è stato quello di custodire luoghi santi, luoghi accoglienti per i fedeli orientali costretti ad emigrare, che devono continuare a vivere secondo la loro tradizione ecclesiale. Dobbiamo continuare ad essere Tempio vivo del Signore, ricordando che la cretta della nostra esistenza credente è stata plasmata dalle mani del vassaio, il Signore, che ha infuso in essa il suo spirito vivificante. E non dimentichiamo che in Oriente, anche ai giorni nostri, i cristiani, non importa se cattolici, ortodossi o protestanti, versano il loro sangue come sigilo della nostra testimonianza.